Buongiorno, siamo all'appuntamento delle previsioni meteo del fine settimana. Terminata l'ondata di maltempo con freddo e neve dei giorni scorsi, il prossimo fine settimana e comunque per i prossimi 8-10 giorni avremo una situazione di sostanziale stabilità per via dell'aumento della pressione atmosferica, il che comporterà un aumento delle temperature soprattutto dei valori minimi. Infatti ormai le temperature minime saranno negative soltanto nelle aree interne e più in quota poiché sia sul versante tirrenico ma soprattutto sulla versante metapuntino e collina materana e alto gratano i valori minimi oscilleranno intorno a 3-4 gradi. Le temperature massime potranno raggiungere anche i 15-18 gradi specie sul versante occidentale, quindi nel versante tirrenico, ma anche nel metapuntino, poiché avremo una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Comunque può esserci anche una nuvolosità stratificata, il che comporterà una leggera riduzione dei valori massimi nel corso della giornata e nei prossimi giorni. Comunque delle condizioni di temperatura gradevoli, quasi primaverili, che faciliteranno tutte le operazioni culturali in campo, dalla raccolta delle ortive alla concimazione dei cereali, ma anche a tutte le operazioni di potatura e anche eventuali trattamenti invernali. Quindi diciamo anche perché avremo una ventilazione piuttosto potesta, proveniente dai quadranti meridionali. Con questo concluso, arrivederci al prossimo appuntamento. Alla prossimo appartiene! Alla prossimo appartiene!